Guardate chi c'è! C'è il che di strano! Va giù in città! Mio padre dice che vendete fumo e merda. E chi chiamerai? Quante cose sono accadute da quando salvarono il mondo? Salve, bentornati a Mondo Medianico. Sono Peter Pinkman. E lui come è ora? Peter è stato a livello di guardia per un po'. E poi ha rotto gli argini. Sono stati umiliati. Ti giudicano una truffa. Io sono una truffa. Messi da parte. Tutto lo Stato, tutto il mondo! Sono affetti da turbe psichiche. Sottoposte a giudizio. E vi farei mettere a rogo! Gli acchiappofantasmi ormai hanno chiuso. Che cosa ci vorrà perché il mondo torni a credere in loro? Ah, no! Lei è stato in strada ultimamente. Sa quanto è anomalo là fuori? Si levano i morti. Il Titanic è appena entrato in porto. Ma è meglio tardi che mai. I demoni si risveglieranno. Tutto il male verrà accaduto. Melba! È un fiume di melba! È come puro concentrato di male. Di male? Trattare il prossimo come mota è sacrosanto diritto di ogni new yorkese. Ignobile e disgustoso bioccolo! È la risposta agli stati emotivi umani. Oh, bambina! Ma quando è la melma a rompere gli argini? Tu chi chiamerai? Chiamami di Acchiappa Fantasmi! Lo hai preso! Acchiappa Fantasmi? Sì, siamo tornati. Momenti di melma. Sono un paio d'anni che non usiamo più questa roba. Io spero che funzioni. Buon anno nuovo! Sì, siamo forti! Noi re divini, loro re di morti! Il mare! Non puntare su questa bassa strategia con me. Ora ho nuovissime basse strategie. Dana Croyd, Sigourney Weaver, Feral Remis, Rick Moranis e Danny Hudson in un film di Ivan Reitman. Siamo i bellissimi, unici e soli Acchiappa Fantasmi. Ghostbusters 2! Pancia in dentro ragazzi, siamo gli Acchiappa Fantasmi!